buongiorno sono marco federici della jane industrie è la seconda edizione a cui partecipiamo quest'anno sicuramente rispetto alla scorsa edizione c'è un numero maggiore di partecipanti in tutti i tre giorni e siamo soddisfatti anche la location rispetto alla scorsa edizione sicuramente è molto migliorata e speriamo di riscuotere buoni frutti